Il Paramemorial, qualsiasi slogan, non sa che significhi e ripete tutto a pappagallo. Proletariato e la borghesia, non c'è altro. Ti riempi la bocca con frasi senza senso! Beh, io so solo questo. Senti, pure io sono marxista e ti dico che quello per cui voi vi battete non è il socialismo, è un'anarchia che servirà solo a far vincere la guerra ai tedeschi. Sì, certo, lo capisco, voi siete un uomo istruito. Infatti. Io sono una persona semplice. Infatti. Sì, insomma, sono uno che parla come mangi. Tu credi davvero che Lenin sia amico del proletariato? Eh beh, io sì. Oh, ma benissimo! Allora lo sai che Lenin è stato mandato qui dai tedeschi, dal nemico, eh? No, questo non lo sapevo. Però una cosa la so. Lenin dice certe cose che a me stanno bene e a tutti quelli come me lo stessi. Perché ci sono due classi. Una è il proletariato e l'altra è la borghesia. Idiota! Io mi sono fatto due anni di galera lottando per la democrazia. Il mio nome è Vassili Gheorghevich Panin. Non hai mai sentito parlare di me? No, mai. Vi chiedo scusa. Io sono così ignorante. E voi dovete essere un grande eroe. Bravo, l'hai detto. E mi batto contro i bolshevichi perché vogliono soffocare la Russia e la nostra libera democrazia. Su cosa hai da dire? E chi è che dice niente? Tanto la cosa è chiara. Gliel'ho detto, sono ignorante. Non lo... E allora il discorso si riduce a questo. E che ci sono sempre due classi. Il proletariato e la borghesia. Io divento pazzo se non cabbe musica! Ci sono solo due classi. E chi sceglie di stare con una è nemico dell'altra. Grazie. Grazie.